Buongiorno, un saluto a tutti e un saluto particolare a Vincenzo Tedeschi, direttore di Bink Italia. Ciao, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, senti, si parla moltissimo di criptovalute da tutte le parti, quasi a ricordare anche per alcuni una bolla finanziaria. Bink mette a disposizione degli strumenti, degli ETN, sulle due principali criptovalute, cioè? Sul Bitcoin e sull'Ethereum. Siamo stati sollecitati, proprio come dicevi tu, da questo grande parlare, da questo grande fermento attorno a questo fenomeno del momento. E quindi alcuni clienti ci hanno chiesto di mettere a disposizione uno strumento per poter investire sul sottostante. Ecco, chiariamo, è un ETN, chiariamo bene di cosa si tratta, cosa replica, come si fa per usarlo. Certo, ci siamo mossi prima dell'estate, guardando appunto negli Stati Uniti principalmente per vedere se ci fosse un ETF che permettesse di investire su questi sottostanti. Però non lo abbiamo trovato perché lì appunto ci avevamo provato in due famosi gemelli di Facebook a emettere uno di questi strumenti, ma la SEC non lo ha permesso. E poi abbiamo individuato invece in Svezia, in particolare sulla forza di Stoccolma, che è un emittente, una SGR, aveva già un strumento a disposizione, un ETN. In questo caso si parla di ETN perché abbiamo come sottostante una valuta e non ETN, perché di solito ha un portafoglio di titoli azionari, pubblicazionari. E appunto questo ci ha permesso di rendere disponibile, semplicemente aggiungendolo tra i titoli negoziabili, questo prodotto per tutti i clienti italiani e per tutti i clienti in realtà del gruppo Pink in Europa. Ecco, senti, quindi... No, prego, vai avanti. Il prodotto è buttato sul mercato, quindi a Stoccolma, l'emittente ne ha creato una versione in euro e una versione in corone svedesi, probabilmente perché per il mercato locale è più corso, no? Sono entrambi molto scambiati, quindi è possibile acquistarli sia in valuta locale che in euro. I nostri clienti privilegiano ovviamente operare su quello in euro. Ecco, senti, alcune domande rapide, e cioè il Bitcoin è il più famoso, l'Ethereum, diciamo così, è un cugino che si sta facendo le ossa. La domanda è, hai notato scambi intensi, ma tra trader, diciamo, quelli big, i professionisti, o anche il retail più generico si avvicina alle criptovalute? Allora, l'Ethereum è stato lanciato la settimana scorsa, quindi c'è solo il Bitcoin, e il Bitcoin era molto movimentato, ma era detenuto più da clienti che lo acquistavano come un investimento di lungo periodo. Invece, l'Ethereum, lanciato di recente, è tradato più di frequente, anzi, devo dire che è più tradato adesso del Bitcoin. Secondo me, la chiave di lettura che ne do io è che, da una parte, probabilmente gli investitori di lungo periodo pensano che possa crescere e raggiungere i valori del Bitcoin, che ricordiamo vale molto di più, circa 5.000, 6.000 dollari, rispetto all'Ethereum, che vale 10 volte meno. Inoltre, anche il lotto di negoziazione di questi ETF è di fatto pari a un ventesimo della valuta. Quindi, il Bitcoin vuote intorno ai 200 euro, e l'Ethereum vuote intorno ai 25 euro. Quindi l'Ethereum è veramente accessibile a tutti, e ci si può anche spendere solo 25 euro. Ecco, senti, d'accordo, naturalmente chi a giugno ci ha creduto, ha preso dei bei soldi, diciamo, se ha tenuto, se ha solamente cassettizzato un po'. E' già duplicato, rispetto a giugno, che vuotava intorno agli 80, credo, 100, quando l'abbiamo lanciato. C'è da dire anche che il Bitcoin offre la possibilità di andare anche short overnight, soprattutto sull'Ethereum, con molti clienti, si stanno prendendo posizioni short. Quindi, è che tutti guadagnano. E' uno strumento molto pratico per vedere con le pizze. Gli shortisti sono rimasti delusi. D'accordo, senti, lasciamo un attimo il mondo fantastico delle criptovalute, perché so che a giorni presentate come Bink Italia ProTrader, nuova piattaforma, ma c'è anche un sito. Puoi dire qualcosa? E' in test già da alcuni mesi, però la lanciamo ufficialmente domani, alto all'Expo, nel Palazzo di Borsa Italiana, ed è la nuova piattaforma che abbiamo disegnato per i trader più esperti. Sostituirà l'attuale, la Scalper, che abbiamo introdotto in Italia fin dall'inizio di Bink, quindi nel 2012, e diventare una tecnologia un po' datata. Questa nuova è stata sviluppata sempre a livello di browser-based, con la tecnologia React, che è la tecnologia che usa Facebook, per sviluppare il suo portale. Quindi è una tecnologia molto fluida, semplice da programmare, anche molto reattiva per quanto riguarda i contenuti dinamici, quali le portazioni streaming, oppure i book. Naturalmente questa è la prima versione, poi crescerà col tempo con i feedback dei clienti, però siamo orgogliosi di lanciarla domani, finalmente in anteprima per tutti i clienti. Senti, il sito? Il sito invece ha avuto un lavoro di restyling, anche quello, ha funzionalità aggiuntive, lo introdurremo entro la fine dell'anno, perché il ritiro contiene anche alcune funzionalità legate alla Mifid 2, che quindi trarà in vigore dal 3 gennaio. Questo è già in produzione per tanti clienti, perché è possibile utilizzare il parallelo entrambi i siti, sia quello vecchio che quello nuovo. Quindi attualmente i clienti possono usare entrambi i prodotti, e il nuovo sito ovviamente più moderno e funzionale, hanno cercato di renderlo un po' più provibile rispetto all'attuale. Va bene, allora per chi vuole verificare, sperimentare la nuova piattaforma al toll domani, chi invece vuole entrare nel mondo delle criptovalute, ha già due ETN a disposizione con Bink Italia. Grazie a Vincenzo Tedeschi, direttore di Bink Italia, e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.